Ben trovati su Crystal News, ragazzi, vi ricordo come sempre che questo episodio è disponibile anche in un podcast dedicato, il link è qui sotto in descrizione, basta che cercate Crystal News su Spotify, Apple Podcast, eccetera, eccetera. Anche oggi parecchie cose di cui parlare, ragazzi, per tanti titoli in arrivo, ma c'è anche qualche reveal, diciamo, piuttosto grosso, che non mi sarei aspettato. Quindi, cominciamo. Tra i giochi in uscita, a breve, ragazzi, ce n'è uno che è piuttosto importante, ok? Ovvero Pokémon Arceus, o Arceus, che dir si voglia, o meglio, leggende Pokémon Arceus. E questo titolo qua, gente, dovrebbe essere un po' innovativo rispetto ai soliti Pokémon, almeno a detta della compagnia e a detta anche di una parte di fan e di persone che l'hanno già provato. Non è stato, però, diciamo, accolto nella stessa maniera da parte di tutti e molti si sono lamentati del comparto tecnico, della grafica. E, ecco, adesso c'è qualcun altro che ci mette un pochettino il carico da 90 ed è importante perché è uno degli analisti, dal punto di vista tecnico, più importanti che ci sia nel mercato videoludico. Ovvero, leggende Pokémon Arceus, grafica ferma al 99, la provocazione di Digital Fundry. Leggende Pokémon Arceus porta una ventata d'aria fresca all'interno del franchise Nintendo, tuttavia il gioco ha già da qualche tempo sollevato perplessità tra i giocatori per via della sua tenuta tecnica, ritenuta parecchia ritratta per essere un gioco di inizio 2022. Era successo anche con Pokémon Spada e Scudo. Ok, a gettare un ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato John Lindeman, senior staff writer di Digital Fundry, che su Twitter ne risponderà alla recensione del titolo per Nintendo Switch, opera del collega Chris Callion di VGC, paragona la grafica di leggende Pokémon Arceus ai giochi del 1999. Il gioco sembra eccellente su vari fronti, ma ei, devono davvero lavorare sulla direzione tecnica degli ambienti. Ok? Afferma lì, mettendo al confronto il nuovo gioco Pokémon con un titolo risalente alla fine del secolo scorso, dove non sembrano esserci troppe differenze nella realizzazione visiva degli scenari. Nel fare ulteriori paragoni, inoltre, fanno notare che la colpa non è dell'hardware di Nintendo Switch, e qui c'è proprio un problema di design. Già, nella discussione, si sono poi inseriti alcuni giocatori facendo ulteriori paragoni, evidenziati ad esempio come The Elder Scrolls Oblivion, uscito originariamente nel 2006, sia visivamente avanti rispetto all'opera Switch nel 2022. Allora, ragazzi, questa è una questione un pochettino spinosa, perché se da un lato io sono uno di quelli che ritiene il comparto tecnico molto importante per un gioco, c'è anche da dire che non in tutti i giochi è davvero importante, soprattutto in giochi che hanno certe dinamiche. Qui però mi sento di dire che, onestamente, trattandosi di un gioco che è praticamente una sorta di open world, insomma, un pochettino di più potevano fare. Non ci si aspetta, certo, il comparto tecnico di giochi all'avanguardia, dopo tutto è il brand di Pokémon e deve uscire su Nintendo Switch, assolutamente. Però, tra il non essere proprio il top di gamma e sembrare un gioco del 99, io credo che ce ne passi un pochettino, d'accordo? Sapete qual è il punto? È che Game Freak ha venduto troppo e sa benissimo che i fan di Pokémon compreranno il gioco comunque, perciò non sente il bisogno di innovare. E devo dire che, anche se non sono molto dentro all'ambiente, sto sentendo nell'ultimo periodo molte persone che si stanno lamentando di Game Freak da moltissimi punti di vista. Quindi io spero che questa sia l'occasione per fare un passettino in avanti, però se le vendite continuano ad essere mega alte, non c'è, diciamo, l'incentivo giusto per migliorare. Io la penso così, ma d'altronde è una questione di numeri. Sta agli utenti decidere. E a proposito di decisioni, ragazzi, abbiamo parlato recentemente della Steam Deck, anzi più volte dicendone le caratteristiche, dicendo che è praticamente in arrivo. Bene, ragazzi, eccola qua. Data di uscita. Steam Deck, Valve svela la data d'uscita, tutti i dettagli su spedizione e preordini. Rappresentanti di Valve sciolgono ogni riserva sull'uscita i Steam Deck ed iscrivono con doviziai particolari tutti i passaggi richiesti per finalizzare l'acquisto della console portatile da parte di chi rientra nel gruppo 1 di prenotazione. Colosso tecnologico americano fissa così la data di invio della prima ondata i Steam Deck prodotti alla compagnia, ovvero dal 25 febbraio. Riceverà un'email contenente tutti gli ordini del prodotto. Dal momento della ricezione dell'email, i clienti avranno tre giorni, 72 ore di tempo, per finalizzare il preordine e provvedere così facendo all'acquisto vero e proprio della console portatile. Le primissime unità di Steam Deck verranno inviate ai clienti a partire dal 28 febbraio. Valve precisa che sta già pianificando l'invio di nuove console a cadenza settimanale, il tutto rispettando le code di prenotazione delineate con la suddivisione dei preordini in gruppi. Quanto alle recensioni, Valve specifica che l'invio delle console per l'analisi giornalistica verrà a breve e che l'embargo per le recensioni finirà il 25 febbraio, anche se alcune testate potranno pubblicare le proprie anteprime impressioni prima di tale data. Allora ragazzi, abbiamo una data definitiva, ok? 25 febbraio. Abbiamo già detto molto di questa... Sì, io continuo a chiamarla console, lo so che non lo è, però da certi punti di vista io credo che gli utenti la vedranno un pochettino come tale. Di fatto è un PC. È un PC handheld, anche se ha un sistema operativo proprietario di Valve, però credo che ci si possa anche installare Windows. Ma questa è una di quelle cose che dovremmo vedere al momento delle recensioni, ok? E non vedo l'ora perché sono molto curioso di questo piccolo prodottino che dovrebbe essere veramente fatto bene. Almeno stando alle primissime impressioni di chi, anche se per poco, ce l'ha avuto per mano. Ora, l'altra cosa bella è che, anche se un po' macchinoso, questo sistema di code fa sì che arrivino meno unità possibili ai bagarini. Il che vuol dire che, sì, gli utenti dovranno fare un passettino in più, mettersi in coda, sono divisi in gruppi, ognuno deve sapere un pochettino quando sarà il suo momento, però, insomma, la cosa, se questo va a vantaggio dell'utente finale e consente di avere più Steam Deck a disposizione direttamente dei giocatori, questa, secondo me, è una ottima notizia. Quindi, per quanto mi riguarda, gente, non vedo l'ora che arrivino le prime Steam Deck nelle mani della stampa e di certi content creator, perché sono davvero curioso di come la stresseranno e di come la testeranno. E a proposito di stress, test e di prodotti, gente, abbastanza recentemente, Sony ha presentato un po' di cose in più riguardo al suo nuovo VR, ovvero il PSVR 2, un nome che, diciamo, è abbastanza un programma. Adesso ci sono ulteriori voci di corridoio che vorrebbero questo visore, diciamo, a un livello qualitativo piuttosto alto. PlayStation VR 2, una densità di pixel mai vista prima per il visore Sony, ecco qua le voci. Nuove indiscrizioni sulle specifiche tecniche di PlayStation VR 2 spingono la sticella della qualità ancora più in alto. Stando alle voci, il nuovo visore targato Sony potrebbe avere una densità di pixel molto superiore rispetto a quella dei principali concorrenti. Ross Young, analista di Display Supply Chain Consultants, ha infatti recentemente pubblicato un tweet in cui viene indicata la densità di pixel prossimo PSVR 2. Stando a quanto scritto, il nuovo visore potrebbe offrire ben 800 ppi, pixel per pollice, per ogni lente, superiore di 4 volte rispetto al primo PSVR e più del dopo di quanto messo in campo da Oculus Quest 2. Virgolettato. Come abbiamo pubblicato oggi nella review, Sony PSVR 2 avrà più di 800 ppd di risoluzione per occhio con due display da 2000x2040 rispetto ai 5.7 pollici da 1920x1080 con 386 ppi per occhio di PSVR. Un gran miglioramento grazie a display OLED RGB a visione diretta. La risoluzione di PlayStation VR è stata confermata da Sony al momento del lancio, ma fino a questo momento non erano emersi notizie relative alla densità di pixel. del nuovo visore, caratteristica altrettanto importante che determina l'effettiva qualità di visione. Se la notizia fosse fondata, ci troveremmo di fronte a un deciso passo avanti rispetto alla passata versione. Ma mi viene da dire non solo, ragazzi. Questa è interessante. Perché? Perché il VR di PlayStation è praticamente l'unico che è effettivamente nativo su una console. Tu devi avere una PlayStation per poter utilizzare questo visore. Ora, lascio le valutazioni a voi, ragazzi. Non è questo il punto. Il punto è che Sony ha investito già in passato su questo visore qui e sta continuando a farlo. E questo, d'accordo, benissimo. Stanno rilasciando una seconda versione. Però, a seconda di come questa seconda versione sarà, gente, possiamo trarre un pochettino un pattern, se vogliamo. Cioè, dove vuole andare Sony con i visori? Quanto sta investendo sul campo? E da quello che è emerso, sia dalle specifiche tecniche, sia da quest'altra informazione, che per quanto singola e ovviamente non da sola è in grado di determinare la qualità di un visore, è comunque, insieme alle altre, un segnale che questo visore potrebbe essere veramente importante in quanto a qualità e in quanto a performance. Se così dovesse essere, se dovesse battere anche la concorrenza su altre macchine, per esempio sia stand-alone che alcune su PC, beh, ragazzi, ci troviamo di fronte a un investimento importante da parte di Sony e questo è un ottimo segnale per il mondo della realtà virtuale. Io, dal canto mio, quando uscirà, lo prenderò sicuramente perché sono molto intrigato e io mi ci devo ancora buttare nel mondo VR a livello personale. Però, gente, se stanno continuando a investire, vuol dire che la cosa è promettente. Ora, gente, torniamo un attimino sulla questione post-acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Quello che moltissimi si sono chiesti è il destino di certi franchise come quello di Call of Duty. Abbiamo riportato le parole di Phil Spencer che sono state interpretate diversamente a seconda dei vari creator o delle varie riviste che riportavano la notizia. Io ho dato la mia. Ma adesso sembra esserci un report di Bloomberg che chiarisce perlomeno una questione. Call of Duty su PlayStation almeno fino al 2023 stanno al report di Bloomberg. Call of Duty resterà disponibile anche su PlayStation fino al 2023 stanno al report pubblicato a Jason Schreier su Bloomberg. Sempre lui. Lo prendiamo sempre. Ne prendiamo sempre le news quando vengono da lui. Sarebbe questo l'accordo sottoscritto da Sony Activision prima dell'acquisizione da parte di Microsoft. Dopo la conferma di Phil Spencer che Call of Duty rimarrà anche su PlayStation arrivano dunque ulteriore testimonianza a supporto della tesi secondo cui lo sparatutto non diventerà un esclusivo Xbox o quantomeno non nell'immediato. Secondo quanto riportato a Schreier il chiacchierato Call of Duty Modern Warfare 2 in uscita quest'autunno il capitolo in arrivo del 2023 e una nuova versione di Call of Duty Warzone si sono tutti assicurati una pubblicazione su PlayStation. Ok? L'articolo parla di almeno quattro fonti che hanno dichiarato essere a conoscenza di questo accordo sottoscritto da Sony Activision Blizzard prima che questa venisse acquistata da Microsoft. Rispettare tali accordi è sempre stata una prerogativa da casa di Redmond come già avvenuto in recente dopo l'acquisizione di Bethesda e le dichiarazioni di Phil Spencer in tal senso. Allora ragazzi questa è una cosa che ovviamente è un report ok? Quindi non c'è l'ufficialità assoluta e io temo che non ci sarà l'ufficialità assoluta su questo se non altro ci sarà gioco per gioco non penso che lo sapremo di default a tavolino perché questo tipo di accordi di solito non vengono resi pubblici ma c'è una buona ragione cioè sono cose interne alle aziende non è perché adesso c'è stata un'acquisizione e improvvisamente questa cosa cambia comunque possiamo se questo report è vero dare per scontato la presenza di Call of Duty fino al 2023 quindi in sostanza un paio di titoli annuali e Warzone più vari aggiornamenti di Warzone d'accordo? poi che cosa succederà però? a seconda del content creator o della rivista le parole di Phil Spencer sono state interpretate in maniera differente c'è chi ritiene che abbia semplicemente detto che rispetteranno gli accordi presi come è giusto che sia ma poi tutti i Call of Duty saranno assolutamente esclusiva universo Microsoft quindi PC e Xbox e c'è chi ritiene che Phil Spencer abbia detto che intende mantenere il brand di Call of Duty su PlayStation anche più in là non mantenendo necessariamente delle esclusive c'è chi ritiene che saranno esclusive ma lo saranno solo temporaneamente la mia versione della cosa è che in realtà non possiamo saperlo ragazzi e non è così scontato pensare una cosa e l'altra e non è che uno possa dire ma è ovvio che sia così no non è ovvio per un cazzo perché non abbiamo la conferma d'accordo? quello che vi posso dire l'idea che mi sono fatta è che molto probabilmente Warzone non resterà su PlayStation perché è free to play e semplicemente ci si guadagna troppo ok? quindi ha senso metterlo su più piattaforme possibili metterlo esclusiva Microsoft secondo me non avrebbe molto senso però i Call of Duty annuali ecco sempre se rimangono annuali questa è un'altra questione quelli potrebbero in futuro arrivare come esclusive dell'universo Xbox ma magari temporali magari per un annetto io penso che in entrambi i casi Microsoft abbia da guadagnarci da questo tipo di da questo tipo di insomma gestione degli affari e non necessariamente devi rendere tutto quanto al 100% esclusiva per poterci lucrare sopra puoi vendere anche sulla concorrenza e fare comunque un sacco di soldi dopo tutto Activision mica ce l'aveva una console e ha fatto miliardi con Call of Duty quindi magari Microsoft vuole fare la stessa cosa ma il punto è che non lo possiamo sapere però insomma se questo report è vero possiamo stare tranquilli che resterà su PlayStation almeno per adesso insomma almeno un altro paio d'anni ce lo possiamo ritrovare e a proposito di cose che The Bot si ritrovano c'è è uscito fuori un teaser ultimamente che non mi aspettavo assolutamente no? vi ricordate la serie di Crysis? bene è stato effettivamente annunciato ufficialmente Crysis 4 e questa cosa qui partendo da una compagnia che diciamo che non ha brillato nell'ultimo periodo ma adesso ne parliamo è stato un fulmine a ciel sereno per tante persone me compreso sicuramente vediamo un po' Crysis 4 annunciato ufficialmente sarà un vero shooter next gen in seguito al leak che ha svelato l'esistenza di Crysis 4 il team di Sillup ha deciso di comunicare ufficialmente ai videogiocatori di tutto il mondo di essere attualmente a lavoro sul nuovo capitolo della serie di shooter in prima persona sul sito ufficiale di Crytek è infatti stata pubblicata una lettera del CEO Avni Yearly il quale ha dichiarato che lo sviluppo del quarto episodio di Crysis è iniziato solo da poco e che non vi ha il momento materiale a sufficienza per una dimostrazione del gameplay tuttavia Yearly non si è trattenuto in quanta promesse e ha confermato che Crysis 4 sarà un vero sparatutto in prima persona next gen lasciando intendere che il suo comparto tecnico riuscirà ancora una volta a sbalordirci grazie all'impegno degli sviluppatori ad accompagnare il post troviamo anche la versione ufficiale del teaser trapelato questa mattina il quale però non contiene sequenze aggiuntive rispetto a quanto già visto allora ragazzi vi devo dire la sincera verità io sono felice del fatto che Crysis abbia un seguito perché è un franchise che era rimasto un pochettino stagnante troppo e anche le Rimastered che ci sono state diciamo che non sono state esattamente brillanti ok soprattutto alcune Rimastered mi pare quella del 3 che è stata presa addirittura dalla versione su console in sostanza su PC ha peggiorato ed è onestamente una cosa scandalosa però sono contento ed è ragazzi uno sparatutto che ha fatto la storia e che era noto per spaccare le schede video ai miei tempi sì ai miei tempi perché sono vecchio d'accordo però sì il primo Crysis io mi ricordo che c'era nessuno dei miei amici anche con PC di fascia veramente molto alta che riuscisse a farlo girare decentemente e questo ha creato tutta quanta la nomea ora se voi però mi chiedete se sono fiducioso riguardo a questo nuovo Crysis vi devo rispondere però purtroppo mica tanto perché Crytek non ha dimostrato esattamente di essere al massimo della forma ultimamente d'accordo perciò prima di avere veramente fiducia devo sapere qualcosa in più fatemi sapere voi come la pensate ora gente torniamo sempre per il tema delle acquisizioni di cui abbiamo parlato torniamo a parlare un attimino di Blizzard gente perché ovviamente c'è molto movimento adesso con i fan che si chiedono che direzione prenderà la compagnia ora che non c'è più Activision di mezzo a livello di dirigenza perlomeno così pare e dopo l'annuncio del nuovo gioco della nuova IP completamente nuova a tema survival ovviamente molti sono in attesa vediamo un po' quali sono però i giochi in sviluppo veramente Blizzard dopo l'acquisizione 7 giochi in sviluppo tra Diablo 4 e Overwatch 2 l'universo di casa Blizzard ha da poco celebrato il 25esimo anniversario della serie Diablo ma il franchise demoniaco non è certamente l'unica IP a alimentare la fornace cattiva la compagnia videoludica pare che al momento siano in sviluppo ben 7 produzioni differenti di seguito cerchiamo di fare il punto della situazione anche in occasione della recente acquisizione Diablo Immortal gioco mobile AAA a parte la saga di Diablo già il famoso per così dire Diablo 4 nuovo atesissimo capitolo principale della saga della saga Overwatch 2 evoluzione dell'hero shooter soggetto da tempo a diversi rinvii una nuova IP Blizzard di genere survival annunciato da pochi giorni il progetto è ancora piuttosto misterioso anche se Mikey Barra afferma di averne già giocate alcune ore e di esserne entusiasta gioco mobile di World of Warcraft ancora non annunciato questa cosa mi terrorizza nuova espansione di World of Warcraft ancora non annunciata e questa vabbè è chiamatissima nuovo gioco firmato dal game designer della serie Hearthstone ancora non annunciato e questo davvero non ho idea di che cosa possa essere vediamo ragazzi che Blizzard in realtà ha delle cose in sviluppo però è sempre stato un pochettino bloccata sui suoi franchise sia a livello proprio filosofico ma anche perché immagino che Activision volesse dei giochi che sapeva che avrebbero avuto successo e secondo me per quanto sia ovvio che il gioco era in sviluppo anche prima la nuova EP Survival dubito che sarebbe venuta fuori con questa facilità con la vecchia dirigenza io credo che ci sia un qualche questo tempismo è troppo sospetto ok? per quanto riguarda le altre EP ragazzi il problema è che Blizzard arriva da un periodo veramente molto molto poco convincente perciò in tutti i giochi in sviluppo si deve dare una mossa cioè deve iniziare a mostrare qualcosa perché i fan possano essere convinti della bontà dei progetti in sviluppo e possano ritornare ad avere fiducia nella compagnia e io credo che lo sappiano d'accordo? quindi ora io non ho molta fiducia come ho già ampiamente detto più e più volte però adesso ho curiosità perché questo è effettivamente un nuovo passo forse e quindi stiamo a vedere che cosa succede e parliamo ora di scarsità di chip e semiconduttori ragazzi questa è una cosa che sta flagellando il mercato videoludico e non solo già da molto tempo ok? è molto difficile per gli utenti trovare delle console di nuova generazione e ancora di più è molto difficile trovare delle schede video dannazione ne so qualcosa giusto? e credo che molti di voi abbiano familiarità con questa sensazione qui se però AMD e Nvidia si sono mostrati diciamo positivi per il 2022 non lo è altrettanto la casa bianca PS5 Xbox Series X e GPU per la casa bianca USA la crisi dei chip rimane gravissima dopo le previsioni di AMD Nvidia Intel sulla tanto sperata fine della crisi dei chip anche la casa bianca ha rilasciato un report ufficiale sull'argomento in controtendenza a quanto dichiarato dalle case citate il segretario del commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo è molto più pessimista tra una domanda del 17% superiore a quella del 2019 crisi che colpisce tutti i modelli di produzione dai 5 agli 800 nanometri e un rallentamento alla produzione di buffer siamo molto lontani a vedere una risoluzione a breve del problema questo è quanto si evince dal rapporto con gli Stati Uniti che sono pronti a stanziare 52 miliardi di dollari per la produzione nazionale dei semiconduttori anche se il suo iter non è stato semplice virgolettato la filiera dei semiconduttori rimane fragile ed è essenziale che il congresso approvi finanziamenti per i chip il prima possibile si legge una dichiarazione di Raimondo in un comunicato stampa dal titolo i dati sui semiconduttori del commercio confermano una necessità urgente che il congresso approvi l'innovazione e la legge sulla concorrenza questo deve portare a un abbassamento dei prezzi generale non solo per i vari dispositivi ma anche per le auto elettriche in via di diffusione sempre maggiore purtroppo ragazzi questa è una cosa che io temo che possa essere fondata nel senso che a dir la verità i report di AMD e Nvidia e anche di Intel non parlavano necessariamente di un ritorno alla normalità e infatti ne abbiamo parlato anche sul canale no? e io vi ho detto guardate che non tornerà tutto alla normalità nel corso del 2022 perché è questo che stanno dicendo casomai il 2023 potrebbe essere l'anno della vera normalità cioè dell'anno in cui se tu vuoi comprare una cosa la vai a comprare perché c'è perché fisicamente c'è adesso non è così nel 2022 la cosa dovrebbe migliorare però non risolversi del tutto ora il rapporto del segretario al commercio degli Stati Uniti sembra più pessimista ok? ora è più pessimista perché per arrivare a una situazione di normalità e allora sì sono d'accordo con lei oppure sta sottovalutando la cosa e magari al momento al momento del dunque nel corso del 2022 vedremo veramente degli abbassamenti è difficile dirlo ragazzi so solo che ovviamente sono tutti concentrati su questa questione perché è un problema per tante tantissime persone per tanti lavoratori anche perciò insomma io credo che le aziende si stiano muovendo il più possibile per sistemare questa faccenda in una maniera o nell'altra ne usciremo ragazzi questo alla fin fine è quello che penso io e credo che in fondo già nel 2022 qualche cosettina dovremmo iniziare a vederla di miglioramento ora passiamo alle news a ruota ragazzi pronti? Crusader Kings 3 ufficiale lo strategico di Paradox arriva su PS5 Xbox Series X e S il 29 marzo Crusader Kings 3 il pluri premiato videogioco in strategia medievale del 2020 arriverà presto su Series X e S e PlayStation 5 sia in edizione fisica che digitale i ragazzi di Paradox Interactive avevano annunciato la volontà di realizzare un porting per console next gen nell'estate del 2021 e ora finalmente è stata resa nota la data di lancio ovvero il 29 marzo 2022 stando a quanto dichiarato agli sviluppatori Crusader Kings 3 su next gen presenterà un'interfaccia specifica e uno schema di controllo appositamente adattato per schermi più grandi e gamepad per console la nuova mappa di controllo consentirà ai giocatori di navigare rapidamente e facilmente nei menu di gioco tramite trigger bumper e rapidi movimenti alla levietà analogica l'edizione per console supporterà anche le funzionalità chiave di Series X S e PlayStation 5 come tempi di caricamento super rapidi per un'esperienza di gioco senza interruzioni e feedback haptico e grilletti adattivi per il DualSense in un gioco di strategia questa cosa mi lascia un pochettino perplesso però bene così questo è il tweet ufficiale ed è disponibile in questo momento per il preorder non c'è molto da dire ragazzi è una news molto semplice voglio soltanto aggiungere che ancora una volta vi voglio segnalare un bel gioco strategico che esce su console e sono assolutamente contento che questo avvenga perché credo che ci sia bisogno di più strategici su console per quanto sia un genere che non giocherei mai su console e vorrei davvero cioè io ancora non capisco come si possa giocarci con il controller però ci sono delle persone che lo fanno e lo fanno con successo quindi buon per loro e sono molto contento che arrivi su console questo titolo e anche altri simili poi ragazzi Halo domenica il nuovo thriller della serie tv Master Chief a terra sui campi NFL Aaron Greenberg responsabile del dipartimento Xbox Game Marketing ha infatti confermato che il prossimo trailer sarà trasmesso nel corso del weekend in particolare la data da appuntare sul calendario è quella di domenica 30 gennaio 2022 il filmato dedicato all'epopea televisiva di Master Chief troverà spazio in occasione dell'AFC Championship Game si tratta di una semifinale dei playoff ok il trailer della serie tv di Halo sarà ovviamente trasmesso nel corso della pausa prevista dal secondo e terzo quarto della partita indicativamente gli appassionati potranno dunque osservare Master Chief in azione intorno alle ore 22 e 30 circa del fuso orario nostrano ora siccome io negli anni passati ho un pochettino snobbato film e serie tv tratte dai videogiochi perché diciamocelo francamente negli anni passati non è che siano venuti fuori chissà quali bei prodotti io a sto giro voglio essere però più propositivo perché dopo Arcane io penso che ci sia un atteggiamento diverso nei confronti dei prodotti tratti dai videogiochi di prodotti di stampo cinematografico o di animazione o di qualsiasi altra cosa quindi sono molto curioso di vedere come sarà questa serie tv e il trailer ovviamente lo vedrò e insomma vediamo un po' che cosa offre anche se ovviamente soltanto un trailer d'accordo? poi GameStop multa da 750.000 euro per pratiche scorrette nella vendita online GameStop Italia è stata multata per una cifra pari a 750.000 euro dalla GCM autorità garante la concorrenza del mercato dopo che l'associazione i feder consumatori ha segnalato alcune pratiche scorrette al noto rivenditore di giochi e prodotti videoludici stando a quanto leggiamo sul sito i feder consumatori GameStop Italia ha divulgato informazioni inesatte e ingannevoli sull'effettiva disponibilità dei prodotti venduti sul suo negozio online la questione riguarda anche i relativi prezzi degli articoli i tempi di consegna dichiarati dal retailer e sembra che in determinati casi sia stato persino imposto l'acquisto di prodotti e accessori in abbinamento forzoso ovvero in bundle diversi utenti scontenti del servizio di GameStop hanno tentato di contattare il servizio assistenza post vendita tramite call center per richiedere un rimborso e esercitare proprio diritto di recesso tuttavia sembra che ci sono stati non pochi problemi di mezzo tali condotti ingannevoli e aggressivi hanno creato un notevole pregiudizio in termini economici per i consumatori che inoltre ha aggiunto come la situazione venga resa ancora più gava al momento che l'acquisto online è diventato sempre più diffuso e necessario date le problematiche legate alla diffusione del coronavirus eccetera eccetera allora ragazzi non voglio entrare troppo nel merito della questione e troppo nel dettaglio perché queste sono questioni legali ok e le autorità devono occuparsi di quello che di quello che devono fare e poi sarà insomma a chi di dovere stabilire se questa cosa deve avvenire oppure no il problema è che nell'ultimo periodo ne sono successe parecchie di queste cose questa scarsità di console ha fatto sì che purtroppo chi se ne voleva approfittare ha potuto approfittarsene e non parlo soltanto di bagarini parlo anche di venditori assolutamente legittimi e legali che vendevano le console al prezzo giusto ok purtroppo qualche pratica scorretta c'è stata e quella di GameStop non è la prima volta che la vedo questa cosa citata ok con utenti che si lamentano esattamente di quello che abbiamo appena letto ragazzi è una multa vabbè abbastanza relativa della verità 750.000 euro però se non altro è un segnale speriamo che qualcosa cambi è l'unica cosa che voglio dire ragazzi perché non voglio andare più nel dettaglio perché sono quasi certo che direi delle scempiaggini perché non me ne intendo abbastanza dal punto di vista tecnico d'accordo? poi gente guardate un po' qui Blood Bowl 3 la nuova Closet Beta in astri di partenza già e ho una cosa da dirvi a riguardo Nacon e Sayanide hanno dato il via a una nuova sezione Closet Beta per Blood Bowl 3 particolare videogioco tattico ispirato all'ononimo gioco da tavolo ambientato nell'universo di Warhammer questa nuova beta è disponibile da oggi fino al 3 febbraio per i giocatori che si sono registrati lo scorso giugno permettendo loro di testare tutte le migliori introdotte durante gli ultimi mesi di lavoro Sayanide in particolare ha ascoltato la community e ha potenziato non solo l'interfaccia utente ma anche reso il gameplay più fluido come nella Closet Beta precedente gli utenti possono giocare con diversi team tra cui gli Orchi Neri la Nobiltà Imperiale e l'Unione Elfica creando partite tattiche a turni contro altri giocatori online e offline o contro la I inoltre è possibile anche provare una nuova squadra che è quella dei Nani non ha ancora una data d'uscita ufficiale purtroppo Blood Bowl 3 ma sarà disponibile nel corso del 2022 su praticamente qualunque piattaforma e ragazzi voglio dirvi che questa è una news che vi segnalo perché sì perché è una cosa importante e questo gioco lo tengo d'occhio da tanto tempo tutta quanta la serie ma vi voglio anche dire che ho partecipato alla Closet Beta ho già registrato il video e proprio oggi alle 15 uscirà sul secondo canale perciò se volete guardare un pochettino di gameplay vi rimando lì e andateci a dare un'occhiata d'accordo? il video dovrebbe uscire verso le 15 come riferimento d'accordo? così vi potete fare un'idea anche voi stessi per quanto mi riguarda sono rimasto piacevolmente sorpreso dato che è stato rimandato così tante volte io la vedevo piuttosto male e mi aspettavo una situazione piuttosto bruttina e invece devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla fluidità di gioco dalla scelta tecnica e dalla scelta artistica di certe cose molto over the top perfino più di quanto mi aspettassi ma divertente e sembra promettere bene ragazzi ok? lo dico tra mille virgolette però andate a vedere voi stessi e infine gente una sorta di rettifica d'accordo a quello che abbiamo detto in una delle ultime news Gran Turismo 7 rischio rinvio scongiurato ecco i motivi del posticipo dell'evento stampa i timori degli appassionati simulatori automobilistici su PS4 e PS5 per il rischio rinvio di Gran Turismo 7 spingono Tom Henderson a indagare sulla questione dopo aver interpellato le sue fonti anonime l'insider spiega perché il team di Polifoni Digital ha posticipato l'atteso evento stampa di GT7 secondo quanto riferito a Tom Henderson dalle sue gole profonde dietro alla decisione di posticipare questo appuntamento mediatico ci sarebbe stata la necessità di attendere l'annuncio e il temuto rinvio di Gran Turismo 7 bensì la volontà di Kasunori Yamauchi di presenziare all'evento il papà del Real Driving Simulator infatti non avrebbe potuto partecipare all'evento stampa pianificato in origine da Polifoni Digital per via di un meglio precisato impedimento personale di conseguenza avrebbe chiesto al suo team e alla macchina comunicativa di Sony di rimandare l'evento in questione consentendogli così di presenziare un nuovo appuntamento per poter interagire con gli appassionati e rispondere alle domande degli addetti al settore quindi se questo è vero in reveal ci sarà un nuovo evento mediatico secondo Henderson sarà il 3 febbraio l'uscita comunque è confermata 4 marzo su PS4 e PS5 quindi questa è una mezza rettifica in realtà perché già durante il rumor originale avevamo detto che in realtà quando si tratta di un sospetto rinvio di un evento mediatico in realtà non possiamo sapere se sia perché il gioco non è pronto e hanno rimandato tutto quanto e quindi rimanderanno anche il gioco oppure se c'è qualche altro impedimento a quanto pare è questo secondo caso d'accordo? quindi in realtà è una buona notizia mischiata a una rettifica e beh se tutto fila liscio dovremo vedere presto l'evento stampa e giocare a Gran Turismo i primi di marzo regolarmente bene gente è tutto per le news di oggi come sempre vi ricordo che le news sono disponibili tutti i giorni anche in un podcast dedicato come abbiamo già detto grazie mille per aver visto questo episodio noi ci vediamo al prossimo e come sempre gente mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram tutti i link per supportare il canale tra cui tanti link affiliati e il link a Patreon e infine anche il link alla playlist con tutte quante le Crystal News che escono tutti i giorni alle 8 su YouTube e sul podcast d'accordo gente? a domani a domani a domani a domani